Gli hanno amati e li hanno odiati Gli hanno acclamati e li hanno offesi Ma nessuno li ha fermati E loro sono tornati! Nooo... Buono si! Buono si! papà, ce la farà diventare un grande bugile? bene, va a parire, bene eh, no, è pure qua, no è pure tv, dai come prima impressione della fattoria è stata molto bella bella, bellissima solo che c'è un piccolo problema fate presenti, sì, sì c'è una bella sinale sì, da un po' ma posso dire addio, non so tratto dal romanzo best-seller mai pubblicato di Mimmo è il meglio di tutti nonché aspirante trovista di uomini e donne vincitore del premio Biscotto Rosaiva 2008 miglior film straniero alla saga del porco di Villa Baldassarre Così, Così, Così guardate senza c***o, yeah, stifai Irreality il nuovo capolavoro della Rufus Production prossimamente sui vostri schermi bam 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 grazie a tutti grazie a tutti